Un piccolo come off Kaya in tutto questo non ha bisogno di fottere con la... Ha filtri in real life Ok Per favore Kaya Let's go Kaya Let's go Vai Kaya Vai Kaya Vai Kaya Vai Kaya Dala Tinky winky Sono bloccato Ma sto ridendo tantissimo in realtà Sono quello che vedete Ecco ho preso una birra scusate Come ho fatto a togliere così in fretta i... Che è successo? What? È una contrafigura Come? What the fuck? Ho visto Maddox prima che era entrato? No? Il reale come questo che cosa Ah Ok Tegamino Ma è un clickbait Oh 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 Ma che tier list di merda è Boke live di merda Mamma mia Ho mi svegliati Mamma mia M Amma mia Grazie a tutti